buongiorno a tutti ragazzoli e bentornati e benvenuti in questo nuovissimo video io sono axon e oggi è venerdì oggi venerdì siamo alla puntata 79 siamo quasi 80 siamo quasi 100 attenzione devo tirare fuori l'idea del per il centesimo video oggi comunque allora vi devo chiedere scusa però in realtà mi state dando abbastanza delle vibes positive da quale almeno che penso poi magari mi sbaglio in questo periodo sono scelto video abbastanza uguale nel senso cucina camera cucina camera dove parlo cose parlo cose come ho già detto è un periodo un po che devo focussarmi su determinate cose faccende nel weekend cercherò un po di cambiare stile di cercare video un po diversi già domenica vado a milano quindi cambierà qualcosa ecco fortunatamente almeno così non vi porto le stesse robe però almeno sono contento del fatto che comunque vi piace anche sentirmi parlare a volte purtroppo questo dubbio sia una bro o shimano ho questo dubbio che magari a volte posso essere noioso magari a volte posso essere ripetitivo anche nel fare il video semplicemente dove parlo in questo modo e gestisco il gesticolo con un coglione però a volte mi viene ansia dicendo magari se lo fa cacare e così via un po di sicurezza anche su sta roba però non male comunque questo video sarà principalmente interamente fatto per farmi fare delle fantastiche domande per il Q&A altrimenti siamo quasi a raggiungimento dei 300 iscritti vorrei iniziare a chiedervi di farmi delle domande qua sotto in questo video se ne avete ovviamente io ovviamente me le segnerò e poi vi risponderò quindi se avete domande fatemene qui sotto qui almeno sono a posto ma le segno ce l'ho un po prima solo per quello magari tra 300 iscritti ci arriviamo tra due mesi però vabbè intanto ho già alcune domande pronte ecco e per domande intendo ogni tipo di domanda qualsiasi cosa abbiate in mente e dirmi appunto anche quanti pigli al culo io vi risponderò probabilmente però ovviamente se ci avete domande intelligenti fatemele non per forza devono tutte le domande essere in questo video però ovviamente ve lo dico di farlo qua così almeno sappiamo che questo è diciamo il video delle domande che poi potete far mettere tranquillamente anche su instagram su tiktok da qualsiasi parte basta seguirmi con link in descrizione quindi che fai che stai a fare clicca iscriviti che tanto ci vuole due secondi mi supporti abbiamo 300 iscritti si porta il bel contenuto e se clicchi su link di social network vi fa diventare una persona ancora più contenta dai allora signori è un orario è mezzogiorno devo scegliere il magico sugo da preparare oggi devo scegliere il magico sugo da preparare oggi per pranzo per mia mamma e io ho un'idea di tonno oh mio dio ma lo sapete benissimo io amo la pasta al tonno possibile che la tua faccia la pasta al tonno o me la tengo per domani anzi domani che è sabato devo vedere cos'ho da mangiare per me domani fammi controllare il frigo mi hanno della pancetta dei pisserui anche se non me li farò mai o non lo so la pancetta speriamo nel guanciale speriamo nel guanciale ma ci va bene lo stesso ah comunque vorrei presentarvi un mio amico oggi vi farò conoscere uno dei miei più grandi amici che mi ha accompagnato in questi anni di avventura Pino ciao ragazzi oggi vi presento Pino Pino è un memo board cioè un supereroe il mio supereroe preferito Pino ha una storia molto simpatica come vedete ha dei baffi molto lunghi e una sigaretta in bocca Pino ha un brutto vizio purtroppo che vabbè comprendo molto Pino è stato creato penso quando andavo in prima superiore ed è rimasto in questo memo board fino ad adesso mia mamma mia odia perché la voleva utilizzare per scrivere cose intelligenti io ho disegnato Pino quindi fatemi sapere cosa ne pensate di Pino Pino so per certo che vi vuole un mondo di bene come io voglio un mondo di bene a voi come io voglio un mondo di bene a Pino io non lo cancellerò mai Pino io penso che quando mi dovrò che cazzo ne so trasferire o qualsiasi altra cosa me lo porto e me lo appendo e lo lascio così per sé cioè Pino ragazzi è l'emblema della mia vita nato completamente a caso in un giorno di noi appunto che mamma aveva comprato questo memo board per scrivere cose intelligenti ricette no che ne so lista della spesa sto cazzo io l'ho utilizzato per disegnare Pino e da quel giorno appunto non è mai stato cancellato e penso che non verrà mai cancellato qualche settimana fa ho avuto un discorso con mia mamma su questa cosa e lei mi fa mi sa che ne compriva un'altra perché ne volevo utilizzare comunque mi serviva e ho detto no bene perché Pino non lo cancelli ecco Pino rimane Pino e Pino non deve tornare una memo board deve rimanere così io voglio un mondo di bene vero? potevo chiamarlo lì no ma l'ho chiamato Pino sì lo so diciamo che usare una memo board per disegnare una cosa inventata a cazzo e lasciarlo lì per sempre effettivamente un po' una cosa useless no? perché uno compri una memo board apposta per segnare determinate cose è utile comunque penso che ne vorrei una anch'io mi sarebbe abbastanza comodo cioè ce l'ho questo Pino è abbastanza importante per me a parte gli scherzi è veramente importante cioè penso che non lo cancellerò veramente mai se mai dovesse essere cancellato potrei piangere ma piangere forte comunque vi farvi notare questa mega collezione di calamite che ha mia mamma e che un po' l'ho presa anch'io ovviamente perché mi obbliga a comprargliele per quando vado via mi obbliga a comprarle qua abbiamo una che è il bidello il bidello sarei io piccola storia che poi vi andrò a raccontare questa è stata la prima calamita che ho comprato a mia mamma ero andato in un posto molto carino un po' su non mi ricordo neanche bene dove e lei mi fa comprami una calamita di un posto come può essere che ne so Rimini qualsiasi altra cosa io ho preso un lupo 100 IQ gameplay in realtà non so perché ve lo sto raccontando ma mi faceva ridere come cosa abbastanza particolare a me tutte queste calamite però è una cosa che so che fa molta gente collezionare calamite nei posti in cui vanno cioè in realtà ci sta come cosa è un piccolo ricordo tipo qua abbiamo una ricetta e la ricetta per il Cuba Libre se volete ubriacarvi in casa Axan venite pure vi insegnerò questa fantastica ricetta e quindi niente ragazzuoli cazzate a parte io direi che devo volare perché mi sono appena ricordato che ho le lezioni di pop stasera devo preparare qualcosina se riesco ovviamente e niente devo spostare questo piatto perché ha abbastanza in mezzo ai coglioni noi ci vediamo domani con un nuovissimo video mi raccomando iscrivetevi al canale seguitemi su Instagram e come al solito scrivetemi le domande cioè scrivetemi le cacce di domande così siamo a posto dai vi dago una buonissima giornata ci sentiamo domani ciao ciao